Meno male che sì, lo c'è. Il Presidente sarà assolto perché il Presidente è innocente e tutta una montatura dei sinistrati fannulloni, arroganti, prepotenti, organizzatori, anche quel giorno 13 dicembre vogliamo giustizia, vogliamo giustizia e la giustizia qui deve cambiare il detto che c'è scritto, la giustizia è uguale per tutti, la giustizia non è uguale per tutti, quindi bisogna cambiare quel detto che c'è lì sul palazzo di giustizia. Meno male che sì, lo c'è, Presidente siamo contenti, meno male che sì, lo c'è. E ci sarà, finirà il suo mandato in poltrona. Amiamo un Presidente ragazzino, frizzante, gioioso, sentimentale, lavoratore, nessuno lo può negare. Grande lavoratore, evviva Silvio Grazie, 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 onorata, grazie, arrivederci, arrivederci, arrivederci di nuovo. Grazie.